Inizia una settimana molto importante per i mercati finanziari in generale, cioè la settimana di concentrazione su quella che è la problematica del debito degli Stati Uniti, di nuovo il gioco delle parti repubblicani e democratici, aumento il tetto del debito, non l'aumento porto sul filo del rasoio. Questa situazione creando squilibrio economico, entro l'uno giugno andrà decisa questa cosa e oggi ne parliamo per capire anche come può reagire Bitcoin e quali sono gli scenari possibili di un evento catastrofico di questo tipo. Vi aggiorno insomma sulla tipologia, l'attributo che viene dato, catastrofico e parliamo anche un po' di quello che si potrebbe verificare perché la scorsa live ragazzi che ho fatto sul canale un utente mi ha chiesto se era il caso anche di sguicciare su euro qualcosa. Quali sono gli eventi, quali sono i collegamenti che si possono andare a inserire se gli Stati Uniti vanno in default anche tecnico, cioè il default più probabile in caso estremo dovrebbe essere quello tecnico, cioè il non pagare magari per un tot di tempo degli interessi. Detto questo Bitcoin si poggia sul livello di supporto pericolosissimo a questo punto dei 26.007 continuando questa fase laterale teoricamente che dovrebbe volgere alla chiusura di questo ciclo mensile tra poco intorno proprio alla settimana di giugno quando dovremmo avere questa questione legata al debito. Cosa può succedere su Bitcoin se il debito pubblico americano va in crisi se c'è una cosa del genere? Partiamo subito con questo video. Ok ragazzi allora si era bloccata la camera. Allora ragazzi la questione del debito pubblico, il tentito del debito pubblico americano più o meno ogni 8 anni viene alzato perché gli americani devono approvarlo in termini politici e soprattutto è veramente altissimo ragazzi. Ha raggiunto livelli molto elevati, 31 billion di debito pubblico, quindi un debito pubblico veramente consistente. Già una decina di anni fa la questione legata al rialzo del debito era stata messa sotto stress perché in sostanza si era arrivati sul filo del rasoio proprio come in questa fase. Ma sembrerebbe che moltissimi analisti sia retail però che professional stimino la questione legata all'incremento del debito attuale estremamente più pericolosa di quella del 2011. Infatti vedete che la probabilità di default sono secondo i professional il 61% più alte rispetto al 2011 e per i retail il 62% più alte. Ovviamente questo è un grafico di Bloomberg. Una cosa del genere è molto importante da andare a ragionare ragazzi. Che cosa può succedere se effettivamente gli Stati Uniti non si mettono d'accordo? E portano sul filo del rasoio questa cosa e vanno in default. Ci sono diversi scenari, il default vero, quindi non pagano più i debiti, il default tecnico, non pagano i tassi di interesse per un tot di tempo, si allunga il tempo e poi rimettono a posto dopo, non succede niente, si mettono d'accordo e si alza il debito. Allora, cosa succede se gli Stati Uniti vanno in default ragazzi? Allora, la cosa principale sostanzialmente è legata a un evento riflessivo, cioè quello che avviene è una diffusione a macchia d'olio del rischio panico generalizzato e dell'inalzamento della percezione del rischio sugli Stati ragazzi. Di tutto il pianeta, nessuno escluso, perché gli Stati Uniti sono la più grande economia del mondo insieme alla Cina, perciò un default agli Stati Uniti indica una cosa molto chiara. Gli Stati possono fallire con un debito pubblico, anche gli Stati Uniti sono falliti, cioè questo sarà il motivo generale che si poi andrà a diffondere con un evento catastrofico di questo tipo. Ciò significa che di primo colpo tutti i paesi ad alto debito pubblico verranno presi sotto attacco dai mercati finanziari e probabilmente messi in ginocchio nell'arco di pochissimi giorni. Ovviamente in prima linea, in questo caso, Giappone-Italia, perché sono i paesi ad altissimo debito pubblico. Se gli Stati Uniti che hanno un debito pubblico alto e sono gli Stati Uniti sono falliti, quei paesi sono falliti, sicuro. Per i mercati sarà questo il ragionamento, perciò inizieranno a richiedere un tasso di interessi sul debito molto più elevato anche per i paesi extra Stati Uniti, quindi l'Italia per esempio, e questo metterà in ginocchio l'economia del paese e l'Italia ovviamente non avrà più possibilità magari di finanziarsi attraverso le emissioni di nuovi BTP. E niente, insomma ragazzi, un effetto valangano, un effetto catena porterà al default ovviamente anche di paesi come Giappone e Italia. E di conseguenza una cosa del genere, come capite, a macchia d'olio si spenderebbe anche su altre questioni, perché un default tecnico anche di altri paesi si va a spalmare anche sul sistema bancario. Quindi di conseguenza per esempio le banche italiane che sono strapiene di titoli di Stato italiani non vedrebbero più i loro crediti ripagati e questo significa che vanno in default molte banche. Quindi di conseguenza andando in default molte banche non prestano i soldi ai mutui alle imprese e le imprese che devono erogare i servizi non hanno più il cash, vanno in default le imprese. Quindi è una spirale totalmente catastrofica ragazzi, quindi fino al momento in cui ovviamente ci sarà insomma la Fed probabilmente o qualche bacca centrale che cercherà di mettere un freano. Ma in ogni caso un evento del genere è un reset economico al 100% del sistema finanziario attuale con conseguenze oggettivamente molto drastiche. Questo per farvi capire anche come un evento del genere probabilmente non lo vuole nessuno, né democratici né repubblicani. Però a volte giocare col fuoco poi ci può bruciare insomma, quindi giocare col fuoco diciamo estremamente pericoloso ci si può bruciare assolutamente. Allora poi secondo punto il valore dell'inflazione, i beni di prima necessità, i beni di consumo normali con un default agli Stati Uniti crescerebbero, incrementerebbero di prezzo. Perché? Perché il rischio generalizzato sul fatto del possibile fallimento anche di altri Stati porterebbe chi ha le materie prime in mano a volersi ripagare questo rischio aumentando i prezzi. Perché poi c'è anche la questione dollaro, perché molte materie prime sono prezzate in dollari. Quindi nel momento in cui il dollaro crasherebbe, perché un default agli Stati Uniti porta il crash del dollaro in maniera immediata in termini di valutazione nominale, quindi questo significa che le materie prime vengono prezzate a prezzi molto più alti in termini di dollaro. Di conseguenza tutti gli altri Stati che acquistano materie prime non riuscirebbero a comprarle, perché anche nella loro stessa valuta avrebbero comunque problemi. Poi è ovvio, magari l'euro non crescerebbe come il dollaro, ma come vi spiegavo, essendoci anche all'interno dell'Europa nazioni importanti come l'Italia, che sono poi immediatamente aggredite da una cosa del genere per effetto indiretto, non diretto, a quel punto anche l'euro stesso andrebbe a crollare, perché c'è un effetto tampone, lì solo la Germania o qualche paese nordico che ha basso debito pubblico potrebbe resistere, infatti abbiamo visto che il DAX, ragazzi, su questa scia di un po' paura è saluto tantissimo negli ultimi mesi, facendo anche nuovi massimi, insomma, eccetera. Quindi effetto inflazione, beni più cari. E c'è anche un effetto molto importante che è quello dei mercati finanziari. Quindi cosa succede nei mercati e cosa potrebbe succedere a Bitcoin? Primo punto, tutti gli asset risk on crollano istantaneamente. Tutti i mercati finanziari crolleranno istantaneamente, provocando una serie di problemi gravissimi al sistema bancario e anche al sistema della gestione dei patrimoni, quindi gli ETF, la questione legata alla pensione, perché gli ETF stessi, ragazzi, potrebbero avere dei problemi anche di liquidità, perciò si potrebbero andare a creare dei buchi enormi con dei crolli a terremoto divisi, perché ci sarà sicuramente l'effetto panico generalizzato sulla borse mondiali che andrebbero poi a, in pratica, a crollare e di conseguenza questo porterebbe a un evento fallimento a catena delle banche più deboli e dei sistemi finanziari più deboli di conseguenza. Quindi gravissimo anche questo tipo di discorso. Di conseguenza, Bitcoin, che cosa potrebbe fare e può diventare effettivamente un bene rifugio in una situazione drammatica di questo tipo? Io la vedo così, ragazzi. Intanto, punto primo, nessuno può sapere una cosa del genere perché la decisione spetterà ai mercati su un evento del genere. Poi vi dico la mia che la probabilità, secondo me, di un evento catastrofico di questo tipo è estremamente bassa. Però, a livello politico, i repubblicani hanno molto da guadagnare a tirare il filo, ragazzi, a mettere in crisi Biden, a far rifare una figuraccia davanti al mondo intero e soprattutto, insomma, questo anche in vista delle prossime elezioni degli Stati Uniti, eccetera. Beh, devono andarci piano a non tirare troppo, no? Il filo, questo è. Ilian di Mazzio ha comunque Bitcoin come potrebbe reagire? Due fasi separate. Prima fase, ragazzi, l'effetto panico generalizzato su tutti quelli che sono gli asset risk on provvederebbe al 100% anche su Bitcoin un crash immediato insieme a tutti gli altri asset di natura risk on. Quindi, nell'immediato, nel breve, probabilmente si assisterà a una correlazione di Bitcoin con gli altri asset, quindi un crollo anche, insomma, delle cripto. Considerate, tra le altre cose, che le cripto, essendo estremamente volati, non avendo effetto tampone da parte di banche non potendo chiudere i mercati qualora avvenisse una cosa del genere si rischierebbe molto anche che alcuni exchange delle cripto salterebbero, soprattutto quelli che emettono le opzioni o altri strumenti di natura derivata perché magari se si sono esposti troppo in leva o una cosa del genere li manderebbe al tappeto quelli che sono, probabilmente, alcuni progetti sparirebbero definitivamente del settore delle cripto però, in linea di massima le cripto sono, sì, più volatili però sono anche esenti dal collegamento con il sistema finanziario perché non sono collegate tranne le stable coin, ragazzi, perché le stable coin, soprattutto Tether sono garantite da debito pubblico americano perché all'interno le stable coin hanno i treasury che sono i debiti pubblici quindi i bond americani e un fallimento quindi una mancata possibilità di vedere ripagati i propri debiti da parte degli Stati Uniti provocherebbe un de-peg anche su Tether e su altre stable coin se non si sono costruiti delle fortezze infatti anche USDC, se non sbaglio negli ultimi periodi aveva modificato un po' i suoi, le sue sistemi di garantia proprio per la questione del debito e quindi anche le stable coin parebbero un bel macello, ragazzi pensate un po' la gravità di una cosa del genere a questo punto quali potrebbero essere i beni di rifugio perché se noi ragioniamo in questo modo abbiamo visto che il bitcoin stesso nella prima fase non riuscirebbe quasi sicuramente a gestire un evento del genere poi magari nella seconda parte potremmo parlare infatti ci ragioniamo tra pochi minuti ma quale sarebbe diciamo la questione delle varie valute di riserva allora intanto questo sempre da Bloomberg oro in primis ragazzi e poi i treasury stessi perché? perché anche quello in un evento crisi del genere i treasury a lunga scadenza non quelli a breve potrebbero essere oggetto anche di di bene rifugio quindi questo è un po' una contraddizione però bitcoin ragazzi è al terzo posto se non che bisogna ragionarci che in questo caso vedete la differenza molto interessante tra professional investor e retail investor dove il professional mette il gold più avanti rispetto ai retail i retail mettono bitcoin più avanti rispetto a i professional questo perché perché i professional hanno maggiormente la percezione di quello che potrebbero fare effettivamente gli istituzionali cioè andare sul bene rifugio classico il gold i retail che magari hanno ancora un po' quella verb a favore di bitcoin come bene rifugio ragionano un po' di più ah c'è bitcoin però gli istituzionali lo considerano tanto e non quanto in questa fase quindi c'è questo squilibrio vedete della struttura di percentuali quindi 7.8 11.3 invece qui è più alto molto più alto il gold vedete sui professional rispetto ai retail va beh però bitcoin c'è è lì quindi che cosa ci potrebbe andare a verificare nell'evento scenario migliore per le cripto in un evento del genere che comunque è vi ripeto catastrofico fallirebbero i fondi pensioni non verrebbero pagati gli stipendi le persone non riuscirebbero a pagare le bollette sarebbe un effetto a catena generalizzato un disastro insomma che mai visto torniamo alle scatolette dei film di tonno dei film degli anni 80 e le gang in mezzo alla via però una cosa del genere poi l'effetto post su bitcoin si potrebbe creare poi un effetto riflessivo successivo cioè nell'andare a ricercare su bitcoin un bene rifugio come e se cioè se bitcoin riuscisse per esempio nelle prime fasi di un evento catastrofico di questo tipo a reggere molto di più rispetto a quello che si pensa per esempio magari con un evento che invece di far rifare un crash del genere riportandolo praticamente a un reset va a sostanzialmente fare sì un crash però poi si ferma magari fa una cosa del genere e riesce a sostenere il prezzo in maniera accettabile allora a quel punto può magari se inizia un evento di un trend nuovo può diventare sempre per effetto panico una asset di rifugio perché perché ragazzi bitcoin non lo sappiamo se sarà quello cioè noi auspichiamoci ci sono le carte in regola però non l'abbiamo mai visto fare una cosa del genere perciò i mercati non si fideranno della cripto di bitcoin come cripto e aspetteranno di vedere questa cosa quindi solo e qualora bitcoin regge un evento del genere lo regge allora a quel punto può diventare un safe asset a quel punto allora magari molti istituzionali potrebbero decidere di fare questo switch ma c'è anche da dire che bisognerebbe trovare un sistema di ingresso perché con un evento catastrofico del default ai stati uniti trovare poi per gli istituzionali un sistema di ingresso dei dollari all'interno del mercato cripto complicato ancora più complicato di come già è oggi che è complicato quindi questa questione qui ragazzi vedete ha molti nodi al pettine da eliminare sicuro abbiamo solo un effetto crash iniziale un po' generalizzato probabilmente tranne sull'oro switchare le stable coin in euro allora il dollaro potrebbe perdere in maniera enorme assolutamente e questo provoicherebbe anche l'effetto doppio cioè per esempio sugli assets denominati in dollari come bitcoin da una parte il crash del risk on dall'altra la diminuzione del denominatore appunto il dollaro come valore e oggettivo quindi questo potrebbe anche tamponare un po' la questione bitcoin essendo poi le cripto non ancorate a livello di recessione perché non gli importa nulla della questione pil o meno dell'economia perché non sono correlate in su modo alla recessione in maniera oggettiva crollerebbero di meno delle stocks perché le stocks invece andrebbero proprio in fallimento mentre le cripto no perché in realtà non c'è modo di farle fallire in quanto sono sistemi nuovi totalmente perciò vedete hanno delle armi in più ma il mercato poi le deve premiare se ne dovrebbe accorgere quindi io spero proprio di non vedere questo disastro assolutamente però in linea di massima vedete questi sono gli scenari che andrebbero ad alinearsi quindi molto delicati sul filo del rasoio ragazzi è un evento possibile o no allora i repubblicani hanno moltissimo da guadagnare facendo fare brutta figura a Biden perché intanto ci sono le elezioni che stanno arrivando e Biden ha tirato molto il filo diciamo dal suo lato gli americani tendono comunque i repubblicani potrebbero tendere a fargli fare brutta figura anche per la questione proprio dei mercati azionari in maniera tale anche da presentarci poi alle elezioni successive con un mercato disastrato con un presidente che era democratico che non ha voluto ascoltare le loro richieste perché le loro richieste sono di maggiori tagli alla spesa pubblica cioè loro accetterebbero l'aumento del detto del debito ma solo con maggiori tagli dall'altra parte perché insomma vogliono più stabilità eccetera mentre i democratici dicono no lo alziamo e basta allora io credo che quello che potrebbe succedere è che si arrivi proprio al filo del rasoio c'è da dire che questo pass politico non deve essere secondo me tirato per le lunghe soprattutto in un momento del genere in un contesto con una guerra in atto con tutto quello che c'è anche dalla parte asiatica con il la pressione anche del governo cinese della Cina in generale a diventare una superpotenza col fatto che la currency del dollaro ha perso tantissimo negli ultimi anni come valuta mondiale una cosa un evento del genere la ridurrebbe in cenere rispetto alle valute mondiali a quel punto quindi lo yuan cinese sarebbe preso sotto i riflettori insieme ai classici franco-svizzero probabilmente l'euro e la sterlina se lo yen fallisce pure perché c'è la questione debito pubblico in Giappone detto questo ragazzi possibilità di difendersi da un evento del genere c'è poco c'è il gold la Germania e questo lo avete visto perché la Germania ha bassissimo debito pubblico non perché si esente da questi crash però ha il debito pubblico molto basso e ghiotto in questo caso poi ci sarà ovviamente la classica svizzera e bitcoin speriamo una cosa del genere che possa avvenire o meno ma io spero proprio di non vedere un evento catastrofico di questo tipo e insomma credo che alla fine i repubblicani cederanno la mano stanno solo giocando sulle richieste cioè sul fatto se effettivamente dire di sì all'aumento del debito per avere poi insomma l'oro delle armi al a favore loro per le prossime elezioni diciamo io la vedo così certo è da dire ragazzi che se arriviamo sempre più spesso a eventi del genere c'è da preoccuparsi questo debito pubblico degli Stati Uniti è pagabile non pagabile parliamo della più grande economia del mondo 31 billion insomma trillion di debito pubblico ragazzi sono un'enormità sono cifre se vedete il rialzo diciamo della curva è spaventoso sembra insomma una bolla della più grande shitcoin del mondo insomma questa cosa va vista prima o poi andrà vista ragazzi e ci sarà insomma molto da riflettere va bene allora lo so non abbiamo fatto analisi tecnica di bitcoin ma è poggiato su questo suo livello di supporto lo facciamo mercoledì ciao ragazzi grazie a tutti